allora mitico reziere prima di tutto grazie perché mi hai messo a posto il forcellino cambio perfetto cambio perfetto ho potuto esprimermi al meglio in questi giorni con i clienti dell'erlo per cui avevo il passaggio tra 11 e 10 perfetto guarda quando buttavo allora la mascherina shimano qua la rivedi nella prossima vita me la prendo io anche perché te sei bravo con internet amazon io quella roba lì abito a lucca ancora non c'è amazon a lucca e per cui poi ti porta una maglia ti porta una maglia di campione del mondo così ti faccio una dedica dal campione del mondo al campione del mondo dei meccanici grazie